Seguendo uno spartito peraltro non nuovo, la direzione provinciale del Partito Democratico ha deciso di non rinnovare il tesseramento al capogruppo in consiglio comunale di Alba in Comune, Nicolino Colonnelli. La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi con alcune motivazioni di fondo. L'aver creato un'associazione politica, no zero, e di essere al di fuori degli schemi del partito. Risultato, a Colonnelli è stata negata la tessera. Stessa sorte è toccata a Mario Tulini, vice sindaco a Civitella del Tronto, e a Daniele Zunica, noto operatore turistico della cittadina borbonica. Un film già visto verrebbe da dire. Va detto che il provvedimento sarà in ogni caso oggetto di un ricorso. Nel frattempo, Colonnelli, sulla propria pagina Facebook, ha ripercorso la sua militanza politica dal 1993 in poi, parlando di un percorso politico coerente e di un vero democratico. Colonnelli ricorda tutto il suo percorso, dall'adesione alla DC in gioventù fino al 1993, per poi passare al Partito Popolare e alle due esperienze in amministrazione. Nel 1995, quando ricoprì il ruolo di assessore al turismo e all'esperienza bis nel 1999, sempre eletto con l'allora sidoco Antonietta Caciotti. Il consigliere comunale ricorda poi l'attivismo effettuato all'interno del partito, che nel frattempo è diventato PD, fino all'ultima esperienza in ordine di tempo. Alle ultime consultazioni provinciali, chiosa Colonnelli, sono stato candidato a una lista del presidente Renzo Di Sambatino e ho contribuito in modo determinante alla vittoria, portando a votare il sottoscritto e dunque il presidente disegnato ben quattro consiglieri comunali che mai avrebbero votato il centro-sinistra, oltre al voto del sottoscritto e dell'altro consigliere comunale in Alba in Comune, Giuliano Vallese. Se considerate che il nostro presidente ha vinto con uno scarto di 1,5 voti ponderati, corrispondenti al valore del voto di Alba, traete voi le dovute conclusioni.